Sì, grazie Presidente. In questo caso parliamo appunto delle aree che sono state realizzate grazie alla collaborazione tra Roma Capitale e CONI all'interno di aree verdi, parchi pubblici. Se ne sono state realizzate tre, prossimamente verrà aperta al pubblico anche la quarta, nel quarto municipio. E' stato tema di discussione anche della commissione di ieri, quello della sorveglianza di queste aree che sono state appunto consegnate al Dipartimento Ambiente ma il Dipartimento non ha al proprio interno i fondi per curarne la manutenzione. Molte associazioni fortunatamente sul territorio hanno a cuore la cura del bene pubblico, dell'attrezzatore pubblico e quindi si sono offerte per adottare queste aree attrezzate. In questo caso ringrazio l'assessore Montanari che ha risposto ad una nota dicendo che seguirà l'iter necessario appunto a formalizzare una collaborazione tra l'istituzione e le associazioni che operano sui territori. E quindi ecco chiediamo con questa mozione di dar seguito a questi impegni affinché vengano formalizzati questi accordi. Grazie. Attraverso adozioni oppure sponsorizzazioni, insomma la forma tecnica è un dettaglio secondario, l'importante è che si riesca ad assicurare la piena cura e protezione di queste aree. Grazie. Grazie.